Assediati dai topi, è la condizione di una famiglia che abita nel pieno centro storico di Pistoia che denuncia una situazione ormai diventata insostenibile. La loro richiesta è di un intervento pubblico per la deratizzazione delle strade e delle piazze intorno al palazzo nel quale vivono. Il problema è che purtroppo da un mese a questa parte siamo blindati in casa nostra, siamo prigionieri in casa perché non posso aprire la finestra di casa, io abito al secondo piano senza terrazzi perché c'è il rischio che mi entrino i topi in casa. Cosa che è già successo e lo avete anche ripreso con le telecamere. Sì esattamente, purtroppo c'è successo e quindi poi abbiamo messo la telecamera puntata alla finestra e abbiamo visto giorni successivi che i topi cercavano di entrare nuovamente. Ecco, il problema però non è solo vostro ma dell'intero condominio e soprattutto dell'esterno. Sì esatto, perché comunque i topi salgono da terra. E voi che cosa chiedete? Casa mia al momento è deratizzata, quindi non ci sono ratti per fortuna, il problema è all'esterno. Io avrei bisogno di un intervento da parte del comune che rafforzi la deratizzazione che sicuramente è già presente in tutto il centro storico di Pistoia ma evidentemente non è sufficiente. Purtroppo è già più di un mese, io ho fatto presente tramite telefonate, PEC ed email, ho avuto anche proprio dei contatti telefonici diretti ma non c'è stato al momento nessun tipo di intervento purtroppo. Grazie. Grazie. Grazie.